Mattias Legoff Siete sempre col pisello all'aria, rimettiti gli slip! La verità è che non me ne importa niente! Se non vi sopportate più, non siete obbligati ad andare d'accordo. I gay games non sono solo una grande festa. Servono a dimostrare al mondo che siamo solidali e che esistiamo. Un gruppo di ragazzi che attraversa mezza Europa in autobus di sicuro succederà qualcosa. C'è una regola ferrea, non possiamo innamorarci tra di noi, chiaro? Benvenuti ai gay games! C'è chi non ha la fortuna di essere gay. Come l'avete trovato questo nome? Nei gamberetti il meglio è nella coda, con le paillette è ancora meglio.